...per ricordare i momenti più belli di 17 anni di vita. Non è semplice, e ci stiamo provando. Mi chiesto per scorso un foglio con una foto, sul primo ricordo. Marti, per noi, tu non sai solo un ricordo. Nel nostro presente sei vita, nei gesti, nei sorrisi, nelle piccole cose che facevamo noi siamo. Che faremo ancora. Ci viveremo in ogni gesto, facendo sempre qualcosa per te. Ora, quello che rimane sono solo la rabbia, lo stupore, lo sconcetto di ciò che non potrà puio essere. Ma se noi ci crediamo, e davvero proviamo a vivere divinamente, ancora e ancora e ancora, al nostro piano ci sarai seguita. Ora, quello che rimane è solo il tuo sorriso. Un sorriso indimenticabile, un sorriso indelebile nel vento. Quel tuo sorriso ha rivolto quel destino per farlo, per rendere dolci, per rendere dolce, insidio del tempo che passa senza vita, Illuminando di nuova luce la notte. Quella cattiva notte è già strappata dalla nostra gioia. Ma una persona non la perdiamo con la tua morte, ma dimenticandola dai nostri cuori. Tu resterai sempre dietro di noi. E colmeremo questo vuoto, riempiendo la nostra vita come facendo. Vivendola al massimo, e sempre con allegresto insieme alla terza. Ai vuoi me scrivo e giravo. Vorrei urlare e gridare. Ma penso che tutti lo vorremmo. Vorremmo gridare quattro settimane. Non vi dirò non viaggete, perché non più che le lacrime sono male. Ciao Marti, vi vorrei oggi. Ciao Marti, vi sembra sorvegliare se ho trattato così. Adesso vorrei poter raccontare qualche canone di persona meravigliata assolente. Non voler dipendere è possibile, perché eri sempre pronto per un amaro. Eri unile. La contigione di te era che cercai sempre il meglio delle persone. Avrei una capacità indiribili di perdonare, di mantenere la calma, di fare qualche forza in ogni situazione. E ti ricordo sempre con la testa sempre un po' perso, la testa di canzoni, i libri, i sogni e speranze. E voglio ringraziarti per sempre per più nuca. Possendo armanare, ma vienete una persona migliore. Perché mi insegnate che nessuno è stato e per montare. So però che non ci hai lasciato per davvero. Sei sempre qui con noi. Ti voglio bene. Ciao Marti. Non avremmo mai immaginato di trovarci tutti qui oggi. In questi giorni ci sei mancata. L'abbiamo pensato tanto a te. E per i miei ricordi di quattro anni di scuola capiamo ciò che ti ha comune a tuo sorriso. Ci piace credere che tu sei ancora qui con noi ad ascoltarci. E a guardarci da lassù con i tuoi occhi e mezzurri. Ci hai fatto capire che il dono della vita è stato prezioso, quanto facile, come te. E nonostante i 12-17 anni hai saputo dare e ricevere tanto amore. La tua è stata una vita piena. Finalizzai felicità e questo ci consola. Se noi conoscessimo il mistero immenso del cielo dove ora tu sei. Se noi potessimo vedere e sentire quello che tu vedi e senti. In quegli orizzonti senza fine e in quella luce che tu investe e penetra, non piangeremo. Ci vogliamo venire i tuoi compagni di classe.